Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come aprire la casa di Lord Voldemort di Harry Potter in Assassin's Creed Valhalla. Sembra strano ma è così, è un easter egg che hanno inserito all'interno del gioco dedicato ad Harry Potter. La casa è questa, la porta è chiusa, ovviamente adesso vi mostro anche la posizione sulla mappa, qui in Inghilterra, vedete? Qui, ecco che zoom indietro, qui, zoom avanti in modo che vedete dove sono. Qui troverete la casa con la porta chiusa. Ora, per aprire la porta avete bisogno della chiave, quindi andate qui, salite questa colonna, ok, qui in alto, entrate nel balcone, qui sotto, praticamente, ok. Allora, distruggete i vasi, in questo modo, e spostate questo, dopodiché andate qua e raccogliete la chiave. Ora che avete la chiave potete ovviamente aprire la porta, quindi una volta che avete aperto la porta troverete un documento familiare, se naturalmente avete visto i film di Harry Potter. Vedete? Entrate nella porta, interagite con il documento, tra l'altro è presente anche un serpente da queste parti, leggete il documento e voilà, una strana lista. Cosa vi dice? Sono gli Ocrux, spero di averlo detto bene, di Harry Potter, quindi di Lord Voldemort.